Musica Buonasera a tutti, ci troviamo a Bardi e questa sera c'è una presentazione di un libro La pestilenza nel 1630 in provincia di Parma abbiamo l'autore Daniele Uboldi che adesso ci spiega come gli è venuta l'idea di scrivere questo libro e di cosa tratta Dunque l'idea mi è venuta perché c'è un lavoro precedente fatto dal Cavalier Conti con il professor Ulino che si chiama Peste in Proculum Pelle che tratta appunto della peste a Bardi io ho cercato di approfondire gli argomenti che loro avevano sollevato ampliandoli anche alla realtà di Borgo Valditaro, Valtaro e della Valceno in generale è un discorso secondo me estremamente interessante perché la pestilenza ha segnato significativamente questo territorio per cui è bene parlarne, è un pezzo della storia di Bardi e della Valceno estremamente importante Quindi lei si è dovuto documentare dove per scrivere questo libro? Dunque premesso che trovare le fonti non è facilissimo, è stato un grosso lavoro Si tenga presente che nel 1600 non esistevano quasi, eravamo in età pre-statistica per cui non esistevano fonti laiche quindi le principali fonti sono di natura religiosa Il Concilio di Trento ha stabilito che le parrocchie dovessero ottenere i registri registro dei battesimi, registro dei matrimoni, delle morti e dello stato d'anime Quindi il mio lavoro è stato quello di accedere a questo tipo di fonti per riuscire a trovare i dati che poi sono presenti nel libro Quindi lei parla della Valceno però anche della Valtaro? Della Valceno e della Valtaro sicuramente Per la Valtaro c'è anche un pregevole libro di Giacomo Bernardi, sempre sull'argomento Al quale io ho copiosamente attinto E forse Borgotaro è il luogo con maggiore documentazione Infatti il Liber Mortuorum della Chiesa di Sant'Agostino è stato direi l'architrave del libro Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro che è sicuramente di grande interesse? Guardi, io ho cominciato a documentarmi con l'archivio storico di Bardi quattro anni fa Poi ho abbandonato un attimo il lavoro perché mi sono messo a fare altro L'ho ripreso in mano e diciamo che c'è un anno pieno di lavoro Di ricerca e di elaborazione dei dati La serata di presentazione del libro è stata organizzata da Il Cammino Valceno E abbiamo qui la signora Mary Luciano che è la segretaria E come mai quest'idea di presentare questo libro? Ma è semplicissimo, sono amica di Daniele da diverso tempo E quando lui mi ha parlato di questa pubblicazione Mi ha fatto l'onore, se vuoi, di farmelo vedere L'ho trovato molto molto interessante Per cui abbiamo cominciato a parlarne A pensare che sarebbe stato molto bello presentarlo E per cui siamo arrivati alla serata di questa sera Chiaramente lui è stato correttissimo perché aveva coinvolto Chi prima di lui aveva scritto Beppe Conti, Maurizio Lino E ha fatto altre ricerche La cosa l'abbiamo trovata molto intrigante Prima diceva che lei è amica dell'autore di questo libro Quindi dove abita questo scrittore? Abita vicino a Cereseto, a Trario Però non è sempre stato qui Quindi è una persona molto pignola Come tutti gli statistici Molto legato ai numeri E anche io credo che anche in questo libro Abbia tenuto la precisione La correttezza dei numeri, se vogliamo Perché poi alla fine ha dovuto affrontare anche quelli Per vedere il numero dei morti Cos'era successo Sì abbiamo avuto occasione con lui di incontrarci anche per altre cose So che anche se abita qui da fisso da non moltissimi anni Si è interessato molto al territorio Perché lavora anche con Borgotaro E' una persona che si interessa molto di ciò che è intorno e del territorio Di quello che succede Ci saranno con lui Va bene, la nostra presidente Patrizia Raggio Che parlerà dei lazzaretti E penso che sarà una cosa interessante Perché comunque hanno una storia più che millenaria Il lazzaretto in generale nasce non per gli appestati Ma per gli ammalati di lebra La lebra era una malattia endemica Conosciuta sin dal primo secolo Almeno in Europa Sin dal primo secolo dopo Cristo Mentre la peste è una malattia ciclica Che ha dei picchi E poi dei momenti in cui non è presente Il lazzaretto viene quindi realizzato In ogni caso per tutte le malattie Che vengono ritenute contagiose E per questo motivo viene realizzato Soprattutto dove ci sono notevoli scambi commerciali Quindi nelle città di mare La prima città da avere un lazzaretto sarà Venezia Poi seguiranno Genova, Ancona Trapani nel 1800 addirittura Quando il lazzaretto viene realizzato Per gli ammalati di colera La peste ormai è debellata Ma comunque rimangono delle malattie Anche Parma ha avuto il suo lazzaretto Dove? A San Lazzaro Perché il lazzaretto sembra almeno Per la maggior parte degli studiosi e così Derivare dal Lazzaro Lazzaro che viene narrato nel Vangelo di Luca Nella parabola proprio del Lazzaro e del ricco Epulone Non è il Lazzaro di Betania Resuscitato da Gesù Ma un altro Lazzaro probabilmente proprio ammalato di lebra Ma in particolare mi intriga molto L'idea della grafologa che sarà con lui Giannini di cognome Che ci farà vedere degli scritti antichi E attraverso questi scritti ci sarà la lettura della personalità Della persona appunto che ha scritto Lei è stata d'aiuto a Daniele Per decifrare i manoscritti che lui ha dovuto leggere per fare questo libro Penso che sia una cosa molto particolare a cui non siamo sempre abituati Che mi incuriosisce molto Il grafologo ha questa tecnica Che è di antica data Anche se negli ultimi due secoli ha raggiunto un po' l'apice Sta continuando a migliorare Che ha la capacità di penetrare attraverso lo scritto Nella analisi della personalità che scrive Ed è una scienza antropologica molto importante È molto difficile immagino Sì, diciamo che si vuole una forte preparazione tecnica Unita anche a mio giudizio a un buon intuito Ma le due cose devono andare di pari passo Perché la formazione tecnica è fondamentale Senta, le voglio fare una domanda Quando lei ha avuto in mano questi manoscritti molto antichi Che emozioni ha provato? Dunque io oltre ad essere grafologa Ho scritto anche due libri di storie facendo ricerche Perché a me affascina la storia E mi emoziona perché Ritrovo lo spirito dell'uomo Ritornando ai nostri antichi Chiamiamo i genitori E quindi mi emoziona sempre Esperienza sicuramente molto bella questa Avere a che fare con delle scritture molto antiche E poi un italiano molto diverso da quello che abbiamo ora Dunque Sì, un italiano diverso Ma più che altro Essendo io grafologa Miro accogliere Come dai tratti della grafia Si possa risalire Alle emozioni Delle persone Dal momento in cui le persone le hanno scritte Hanno vissuto questi momenti emozionanti In più Spero che questo sia L'inizio di una serie di presentazioni di libri Si piacerebbe organizzare Anche per Non abbiamo ancora deciso Se per la primavera o per l'autunno prossimo Dei venerdì letterari Questo potrebbe essere Non è il primo della nostra storia Però il primo di quest'anno Che sarà seguito il 27 di questo mese Dalla presentazione di un altro libro Di Vilma Ricci e Giovanni Grilli Cartoline dall'America Per cui speriamo di iniziare Una bella avventura di presentazioni di libri Grazie anche per questa visibilità che ci date Perché non è facile averla di solito Per cui vi ringrazio tantissimo anche per questo Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te